I soldati che erano stati trovati e stavano lì, capito? E io tenevo, mio padre lo ha detto a dormire, e ci stavano scendo, e io ci tenivano la televisione e fecero l'elenco, e che capitavano due dei nostri soldati, che erano qui, la mamma che chiacchiava, non sapevano, non scrivevano, non sapevano niente, invece in questo elenco ci scapparono questi, che erano vivi, diciamo che erano vivi, e quando mio padre che è venuto a dormire, si è svegliato, diceva, se ho trovato, sono sentito qua, in questo elenco di soldati, due di qua, ma non sapevano, e che era uno, non era Lorenzo Iocca, che è morto ieri, ma allora, erano due soldati nostri, che le mamme non sapevano niente, e quindi...